Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo alla vicenda Porto di Gela. Nonostante lo scorso 27 settembre alla Regione si è stato firmato l'accordo attuativo, i lavori alla struttura portuale gelese sono ancora fermi, sollecitato l'immediato intervento del governatore Rosario Crocetta. Non sono escluse forme di protesta da parte degli operatori marittimi. Era il 27 settembre scorso quando a Palermo alla Presidenza della Regione fu firmato l'accordo attuativo di intervento attinente alla riqualificazione della portualità gelese con il ripristino funzionale ed il potenziamento del porto rifugio. Le firme furono apposte dal governatore Rosario Crocetta, dal sindaco di Gela Domenico Messinese, dalla responsabile regionale della protezione civile Carlo Gerofoti e dai vertici dell'Eni. Tutto rientrava nel protocollo d'intesa per l'area di Gela, sottoscritto il 6 novembre del 2014. All'incontro palermitano erano presenti anche altri rappresentanti della Giunta Comunale, della Sise Civica e la delegazione parlamentare gelese all'Ars. C'erano anche i componenti dei vari comitati del porto. Alla fine si brindò. Finalmente si disse, si scrisse, erano finiti i viaggi della speranza. Alcune settimane dopo fu individuata anche la figura della responsabile unico del procedimento. Bene, anzi male. Da quella data ad oggi sono passati esattamente un mese e 21 giorni ed è tutto fermo. Proprio ieri per fare il punto della situazione si è svolto un incontro al Comune alla presenza del gruppo di lavoro del porto convocato dal Presidente del Consiglio Comunale Alessandra Ancia. Presenti il Vice Sindaco Simone Siciliano, il Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle Virginia Farruggia ed i rappresentanti del Comitato del Porto dell'Associazione Pescatori e del gruppo Barcaioli con Massimo Livoti, Ascanio Carpino, Giuseppe Bellavia e Vincenzo Casciana. Alla riunione, indetta ad alcune settimane, non hanno preso parte la Protezione Civile e la Capitaneria di Porto. Dall'incontro, come dicevamo, è emerso poco, anzi nulla. Infatti, dalle informazioni raccolte dal Presidente della Sese Civica, dopo un colloquio telefonico con il responsabile unico del procedimento, Gaetano Calafato, non c'è alcuna certezza sull'avvio dei lavori della caratterizzazione della sabbia necessari per ottenere le autorizzazioni ministeriali per istituire il bando di gara per i lavori programmati. Dunque, tutto rimane al momento com'è. Il gruppo di lavoro, assieme all'amministrazione comunale, sta inviando un'ulteriore nota alla Presidenza della Regione, al Dipartimento della Protezione Civile e ai deputati regionali Federico, Arancio e Cancelleri, oltre a quella già inviata dal Sindaco di Gela lo scorso 4 novembre e della quale non si è avuto riscontro per richiedere, con la massima urgenza, di indire un tavolo alla Regione al fine di verificare lo stato dell'arte. Se non ci saranno risposte immediate, certe, non escluso lo stato di agitazione e con proteste eclatanti da parte di chi realmente soffre maledettamente un porto insabbiato. Loro sono gli operatori della struttura portuale. Ai deputati regionali eletti in provincia, il Comitato del Porto chiede interventi immediati, fatti concreti, battano i pugni e facciano sentire la loro voce, perché una città bagnata dal mare che non ha un porto fruibile è il paradosso di tutti i paradossi. Non vorremmo, aggiungiamo, che oltre al porto insabbiato, nella lenta burocrazia amministrativa si insabbino anche i progetti. Ma cosa prevede l'accordo attuativo di intervento attinente la riqualificazione della portualità gelese con il ripristino funzionale ed il potenziamento del porto rifugio, firmato lo scorso 27 settembre? Vediamolo in questo servizio. Da Giole a Palermo per chiedere un porto fruibile incontri, tavole rotonde, riunioni tecniche, si è tanto parlato e ancora se ne parla, ma si conclude poco. E tutto, al momento attuale, è fermo, nonostante la firma sull'accordo attuativo di intervento attinente alla riqualificazione della portualità gelese con il ripristino funzionale ed il potenziamento del porto rifugio. Ma cosa prevede l'accordo? Gli interventi strutturali e definitivi di riqualifica della struttura portuale saranno realizzati dalla protezione civile indicata dalla Regione quale soggetto attuatore e beneficiario del contributo. Il costo stimato per la realizzazione delle opere è di 5 milioni e 880 mila euro. L'accordo attuativo, siglato il 27 settembre scorso dalla Regione Sicilia, dal Comune di Gela, dal Dipartimento regionale della protezione civile e da Eni e il cui progetto esecutivo è predisposto dal Dipartimento regionale della protezione civile prevede come principali attività il dragaggio dei fondali ad una profondità minima di 4 metri sotto il livello del mare e con la movimentazione di circa 205 mila metri cubi di sedimenti, un intervento di regolarizzazione della spiaggia adiacente al porto rifugio con piantumazione di assenze arboree e un intervento di protezione dell'aria attraverso l'ampliamento ed il rafforzamento del pontile di Ponente per una lunghezza di circa 120 metri. Prima di procedere con le attività di dragaggio sarà effettuata una caratterizzazione del sito che ancora, come dicevamo, non è avvenuta. Oltre al potenziamento del porto rifugio, l'accordo prevede anche la realizzazione di uno studio sul sistema portuale gelese. L'analisi ha come obiettivo di mettere in evidenza l'attuale stato delle infrastrutture e di possibili interventi di riqualificazione e potenziamento volte a garantire il ruolo strategico del porto industriale di Gela all'interno del nuovo piano regionale dei trasporti. L'intesa, firmata a settembre, lo ripetiamo, rientra nell'ambito del contributo economico di 32 milioni di euro previsto dal protocollo del 6 novembre del 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione di interventi per lo sviluppo sostenibile e di riqualificazione urbana e culturale della città di Gela. Su richiesta della CGL è stata convocata la conferenza dei capigruppo da parte del Presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Asia. Presenti, oltre al Presidente, i consiglieri Gallo, Scerra, Casano, Bonura, Giudice, Napolitano, Siracusa. All'ordine del giorno il servizio trasporto disabili. La CGL, assieme ai consiglieri presenti, ha stigmatizzato l'assenza dell'assessore ai servizi sociali, Licia Bela, che ha delegato alcuni dipendenti della ripartizione che di fatto non rappresentano la giunta comunale e quindi non possono assumere alcuna decisione politica. Ci saremmo aspettati, scrivono la CGL e i capigruppo, la presenza di coloro convocati dalla Presidente Asia e assumere decisioni, ma registriamo ancora una volta con amarezza e la totale assenza che si traduce in disinteresse. L'obiettivo è quello di fornire un servizio continuativo agli utenti e garantire un futuro agli 11 operatori che da anni vivono in uno stato di precarietà. Ad oggi non tutti i diversamente abili, si legge in una nota, affluiscono del diritto all'assistenza, malgrado abbiano tutti i requisiti e siano in gradatoria utilmente. Sono stati sei sindaci siciliani ad incontrare il premier Matteo Renzi e ad esporre i problemi delle loro città, dalle più piccole alle più grandi. Ad aprire l'incontro al centro polivalente Michele Abbate, il segretario provinciale del Partito Democratico Giuseppe Gallè. Tre minuti a favore del Siletti con impeto e passione. Un paese che sa dire solo no è un paese che ha smesso di credere nel proprio futuro ed ha continuato la battaglia per le riforme e parte da Caltanistetta, tra Zolfo e Sassi. Ad introdurre gli interventi dei sindaci il segretario regionale del Partito Democratico Fausto Raciti che li ha definiti gli uomini di frontiera. E mentre sfilavano ad uno ad uno i consiglieri comunali, i sindaci della provincia, deputati, unico rappresentante del governo regionale, Nisseno Gianluca Micicchè, assessore al lavoro, grande assente il presidente della regione, Rosario Crocetta, primo tra i sindaci Giovanni Ruvolo, con la fascia Ticoloro e solo lui ad indorsarla, che ha parlato dell'importanza dell'area vasta, creata anche e soprattutto insieme al sindaco di Enne, da Grigento. E poi la Corte d'Appello, presidio di legalità, che non va soppressa, è un lungo commosso applauso applauso in ricordo di Michele Abbate, citato nell'intervento del primo cittadino che ha dato il nome alla struttura e che ha ospitato l'incontro con Renzi. Eterogenea la scelta delle testimonianze dei primi cittadini, dai paesi più piccoli al sindaco di Catania, Rosaria Stadarelli, il sindaco di Misilmeri, Paolo Amenta, il sindaco di Canigattini-Bagni e vicepresidente del Lancio, e poi Filippo Spataro, sindaco di Comiso, Enzo Bianco e Leonardo Ciaccio, sindaco di Sambuca di Sicilia, eletto il borgo più bello d'Italia 2016. Un divertente siparietto, quello nato al momento della consegna di un dono da parte del sindaco Leo Ciaccio, dei dolci tipici di Sambuca. Non sono cannoli, ovviamente a battuta di chiaro sapore e cuffariano, caro Matteo, ma sono ugualmente energetici e ti serviranno. Ascoltato in silenzio tutti il premier, seduto in prima fila tra il sottosegretario Davide Faraone e il segretario regionale del PD Fausto Raciti. Ed è poi salito sul palco, ha preso la scena ed ha cominciato ad arringare. Lo sviluppo parte dalla Sicilia che deve ripartire da allora le infrastrutture, come già aveva accennato i giornalisti che lo attendevano all'arrivo. Ma non solo, ha parlato anche di un rilancio d'immagine e da qui la scelta di organizzare il G8 a Taormina. Un leader straniero disse, ha raccontato che la Sicilia è solo mafia e noi allora gli dimostriamo che non è così. Cambiando addirittura la location, infatti era prevista a Firenze come città che avrebbe ospitato l'incontro dei grandi della terra. E a un certo punto ha detto, bene, oggi non parlerò di referendum. E con un brussio notevole in sala, gli è stato addirittura richiesto da parte del pubblico di parlarne. Allora è ripartito con il solito light motive, rivolgendosi ai giovani, seduti a terra dinnanzi le prime fila, spiegando il valore della riforma costituzionale, della bellezza della carta costituente. Ha smentito il potenziamento del ruolo del premier ed ha spiegato ai ragazzi il bicameralismo perfetto. Un'ora tutta di un fiato, quella trascorsa al centro Michele Abbate, dedicata per lo più alla gente e in realtà poco alla politica. Ritorniamo a Gela. Ad un anno dalla sua scomparsa, la pubblica assistenza Procivis, ricorda Giacomo Ferrera, sabato 19 novembre alle 17.30, nella sala congressi della Procivis, in via Ossidiana 23, donna Raimondo Giammusso celebrerà l'Eucaristia, la presenza dei volontari del mondo del volontariato e di tutti coloro i quali vorranno partecipare. Al termine della messa, la presenza della moglie Maria Granvillano seguirà l'intitolazione della sala operativa a Giacomo Ferrera, già coordinatore provinciale della Servizio Emergenza Radio e della Federazione Italiana Ricetrasmissioni. A causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche previste, è stata rinviata l'inaugurazione del mercato agroalimentare di Campagna Amica, prevista per domani mattina in Piazza Roma a Gela. La manifestazione è stata rinviata a venerdì 2 dicembre, in quanto la settimana precedente i dirigenti della Col di Retti, che tengono ad essere presenti all'esordio gelese dell'iniziativa, avevano già preso altri impegni. L'inaugurazione di Campagna Amica, posticipata dunque al primo venerdì di dicembre, oltre all'incontro tra produttori e consumatori, prevede una serie di iniziative di intrattenimento. Nel trigesimo della scomparsa di Monsignore Grazio Labbiso, parroco della Chiesa Madre e già vicario foraneo della diocese di Piazza Almerina, ieri è stata scoperta una lapide sulla restauro dell'opera Pignatelli Roviano, voluta dallo stesso sacerdote, per dare il giusto merito a quanti hanno contribuito alla realizzazione dell'arrestauro del palazzo, eroso dal tempo e dalle diverse distrazioni degli uomini. L'iniziativa ha coinvolto i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia, Principessa Pignatelli Roviano, preseduto da Rocco Vacca. La benedizione è stata seguita da Don Giovanni Tandurella. Una celebrazione, ma sicuramente una commemorazione, e quindi una data importante. Aver fatto la scopertura di questa lapide era un grande desiderio, voler dare il giusto riconoscimento a chi sono stati gli artefici di una ricostruzione di un palazzo che era ridotto ormai allo squallore. Purtroppo lo facciamo nella data del 30esimo della sua dipartita. Noi siamo soddisfatti con un po' di amarezza, un po' di tristezza dentro, sicuramente sì. Però siamo orgogliosi di aver fatto questa operazione. Siederà domani presso l'Istituto Salvatore Quasimodo di Gela, diretto da Maurizio Tedesco, la festa dell'albero. Appuntamento per le nove. La manifestazione prevede la piantumazione a cura della forestale di Caltanissetta ed uno spettacolo con la collaborazione dell'associazione CAV di Gela dal titolo Un seme, un albero, la vita. Fai la cosa giusta. Differenzi ai rifiuti. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi giovedì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione il vetro nella pattumiera di colore verde in dotazione. Cosa conferire? Bottiglie prive di tappi. Fiaschi senza paglia. Barattoli e vasetti. Bicchiere e brocche, solo se in vetro, non cristallo. Vetri vari anche se rotti. Contenitori vari in vetro per alimenti e non. senza tappi e o altri materiali diversi. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fonde di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche, senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Un ambiente pulito e sano, basta un piccolo gesto. Siamo ritornati, seconda parte del Tre Giornale, concerto di beneficenza in occasione della giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, si terrà domenica 20 novembre nella chiesa Sant'Agostino di Gela, promosso dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra, in collaborazione con la Regione Sicilia, il Comune, il Comitato Provinciale Unicef, il Lions International e l'Interact. Il programma prevede alle 18 la celebrazione della Messa e alle 19 e 15 il concerto. L'evento sarà accompagnato da una raccolta fondi in favore della campagna Unicef denominata 100%. Vacciniamoli tutti, sentiamo. Dobbiamo dire intanto che è una bella idea, perché è ispirata al mondo dei bambini e dell'adolescenza. Vacciniamoli tutti 100% significa dare quella protezione ai bambini in età proprio della prima infanzia, quella possibilità di creare una barriera anticorpale e quindi essere protetti nei confronti di numerose malattie infettive. La vaccinazione chiaramente ha dimostrato che il tasso di mortalità infantile mondiale è sicuramente in decisivo decremento. E voi state avviando una raccolta fondi proprio da destinare all'Unicef? Ovviamente sì, e sarà questa un'occasione appunto organizzata dalla referente locale la dottoressa Giussi Ferrera su input del professore Pirrello che è il presidente provinciale dell'Unicef proprio per far sì che anche a livello internazionale possa esserci dei fondi che bisogna investire sulle vaccinazioni per quanto riguarda soprattutto il terzo mondo. Non è ormai una novità che dal terzo mondo poi alcune patologie che ormai ritenevamo debellate come la polio ad esempio in Nigeria c'è stato un caso di polio possono poi trasferirsi nel mondo occidentale quindi intervenire su di loro non significa sprecare soldi anzi significa intervenire su di loro ma per difendere anche i nostri bambini. A tal proposito devo complimentarmi anche con il governo attuale che ha finalmente adottato il piano d'azione che è dal 2004 che noi avevamo adottato su input dell'Unicef il piano d'azione per l'infanzia e l'adolescenza e il fondo per la povertà sociale ed educativa che è tra l'altro finanziato con dei proventi dei guadagni delle banche il che significa fare un'opera meritoria anche per quanto riguarda la società italiana. Ricordiamo l'appuntamento domenica prossima alla Chiesa Sant'Agostino Sì domenica 20 novembre dopo la celebrazione della messa che sarà alle ore 18 alle 19.15 ci sarà il concerto un concerto corale costituito da genitori e bambini e diretto dal professore Falci. Tre giorni gelesi per lo scrittore Crocivisso Dentello nell'ambito della rassegna culturale dei venerdì letterari promossa dal comune di Gela l'autore di Finché dura la colpa presenterà il suo romanzo d'esordio oggi alle 18.30 nei locali della biblioteca comunale domani alle 9 all'ITIS Morselli e alle 11 al liceo scientifico Elio Vittorini ed infine sabato alle 11 incontrerà gli studenti del liceo classico Eschiro alla libreria Randazzo proseguono gli appuntamenti con la rassegna viaggio musicale attraverso la vibrazione delle corde di una chitarra promossa dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra di Gela col patrocinio della regione del comune e del museo archeologico regionale sabato 19 novembre alle 19 è prevista nei locali del museo l'esibizione del chitarrista Davide Sciacca che sarà protagonista del Contemporary Resital assieme al polistrumentista e sperimentatore Rosario Tomarchio consegnata all'unità operativa complessa di gastroenterologia del presidio ospedaliero Maddalena Raimondi di San Cataldo la prima delle tre colonne endoscopiche di ultima generazione acquistate dalla direzione dell'ASP di Caltanissetta le altre due saranno consegnate la prossima settimana a Gela e a Mussomeli endoscopi dotati di tre telecamere con una visione di quasi 360 gradi acquistati con uno sforzo economico non indifferente da parte dell'ASP dopo una lunga trattativa con l'azienda produttrice per un importo di 600 mila euro più IVA rispetto agli 870 mila euro iniziali somma comprendente anche l'assicurazione full risk per tre anni il macchinario che oggi abbiamo avuto in dotazione è tecnologicamente avanti perché rispetto agli attuali perché li utilizziamo ancora endoscopi ha una visione di 360 gradi contrariamente a quello che era la visione degli altri endoscopi finora in commercio che vantavano da 140 a 170 gradi di visione questa innovazione ci permette di visualizzare le austre coliche dove si possono annidare le formazioni polipoidi che sono il nostro obiettivo nel momento in cui vogliamo andare a fare una prevenzione per il tumore del colorretto i polipi sono i precursori del tumore del colorretto tant'è vero che vi è una campagna che ormai da 4-5 anni finalmente in Sicilia sullo screening del carcinoma del colorretto sullo screening dei tumori del collo dell'utero e del seno e in queste patologie tumorali si è visto che eliminando i precursori quindi in questo caso i polipi noi eliminiamo il tumore la direzione strategica dell'aspi infatti sta lavorando per migliorare la sanità in provincia puntando sulla riallocazione dei reparti e l'acquisto di nuovi strumenti oltre alla riorganizzazione funzionale in questa ottica sono stati già acquistati 37 ecografi la PET e 5 TAC di cui una consegnata al presidio ospedaliero di San Cataldo una TAC di nuova generazione a 16 slide che consente una maggiore risoluzione rispetto alla precedente per quanto riguarda la gastroenterologia per quanto riguarda l'endoscopia abbiamo anche già la gara d'appalto per quanto riguarda la nanometria esofagea e quindi andare a studiare le pressioni che ci sono andare a studiare i riflussi andare a studiare determinate patologie dell'esofo e non dimentichiamo che abbiamo già attivato una convenzione con uno specialista che verrà ad addestrare i nostri gastroscopisti per quanto riguarda la disostruzione il trattamento delle ostruzioni delle vie biliari quindi vedete che il quadro è un quadro a 360 gradi la pagina dallo spettacolo appuntamento col cinema all'antidoto di Gela e in proiezione il film ti amo presidente sono due gli orari 19.30 e 21.30 e sempre all'antidoto è scattata la campagna abbonamenti per la stagione teatrale il cartellone comincerà il prossimo 23 novembre l'abbonamento intero costa 70 euro 55 euro ridotto per i giovani e al teatro Eschilo di Gela sabato 19 novembre alle 17.15 per gli abbonati del turno B e alle 21.15 per gli abbonati del turno A Raimondo Todaro e Francesca Tocca porteranno in scena il grande Gerswin ci sono ancora biglietti disponibili lunedì 21 invece alle 21.15 saliranno sul palco Gabriel Garco e Ugo Pagliai in Odio Amleto per informazioni il botteghino del teatro è aperto ogni giorno dalle 17 alle 20 abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni grazie per averci seguito grazie per averci seguito